Un conflitto a fuoco tra bande e rivali, bande formate da minorenni che questa notte non hanno esitato ad affrontarsi a colpi d'arma da fuoco tra i vicoli di Corso Umberto I a Napoli. Sembra essere questo lo scenario in cui ha perso la vita un ragazzino di appena 15 anni. La squadra mobile sta cercando di fare luce sul possibile, coinvolgimento inoltre di altri due giovani feriti che si sono regate all'ospedale CTO della città. Si tratta di due ragazzi medicati dai sanitari, il primo per alcune scoriazioni sulle braccia e sulla fronte, mentre all'altro è stata riscontrata una ferita d'arma da fuoco su un braccio. La sparatoria è avvenuta in via Carminiello al mercato intorno alle due di questa notte all'angolo con Corso Umberto I. L'arrivo delle forze dell'ordine sul posto dopo una telefonata che segnalava l'esplosione di colpi d'arma da fuoco e il ferimento di un giovane che poi si è scoperto essere nato nel 2009. La scena dell'omicidio è un vero e proprio teatro di guerra lungo circa 200 metri, con un'auto con i vetri in frantumi e un cassonetto dei rifiuti crivellato di colpi. La vittima del quartiere sanità risulta essere incensurata. Dei due giovani feriti, il ragazzino di 16 anni è stato sottoposto ad un intervento chirurgico d'urgenza che ha consentito l'estrazione dell'ogiva. Al momento le sue condizioni di salute sono buone. L'altro invece, anche gli minorenne, è stato accoltellato alla coscia e al gluteo. I sanitari del CTO hanno riscontrato la lesione di un'arteria ed è stato quindi sottoposto ad angiografia ed embolizzazione. I medici hanno bloccato la fonte di sanguinamento e anche le sue condizioni al momento risultano essere buone. 30 videoslot, un centro scommesso e abusivo e 5.000 euro in contanti sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Napoli insieme con i funzionari dell'Agenzia delle Dogane dei Monopoli, nell'ambito di un piano coordinato finalizzato al contrasto al gioco illegale. 5 persone sono state denunciate all'autorità giudiziaria a bario titolo per mancata esposizione della tabella dei giochi proibiti con conseguente sanzione amministrativa fino a 60.000 euro, furto di energia elettrica e attività abusiva di centro scommesse. I controlli si sono concentrati a Napoli, in particolare nei quartieri Scampia, Secondigliano, San Ferdinando e Sanità, dove sono state sequestrate anche 10 postazioni telematiche illecite per scommesse. Operazione dei Carabinieri di Salerno contro il traffico internazionale di droga. I militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Salerno su richiesta dell'ufficio inquirente coordinato dal procuratore Giuseppe Borrelli. Nella Maxi Operazione Antidroga è stata smantellata un'organizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti operante a Salerno e provincia, capace di penetrare anche nei mercati illeciti di altre regioni, tra le quali Basilicata e Puglia. 14 le ordinanze di misure cautelari emesse, 11 sottoposte a misura cautelare della custodia in carcere e 3 alla custodia domiciliare. Sono accusati di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di cocaina, marijuana e hashish, nonché altri diversi reati. I principali referenti, Carmine Memoli e Tiziano Memoli, aiutati dalle loro famiglie, secondo quanto hanno dimostrato le indagini, avevano acquisito nel tempo autonomi e solidi canali di approvvigionamento anche dall'estero, in particolare dalla Spagna, ed erano in grado di trattare con soggetti di primissimo piano nel settore del traffico internazionale di cocaina, collaborando con gli stessi nel ritiro dei carichi pervenuti al porto di Salerno dal Sud America. Nel corso delle attività sono stati sequestrati circa 257 kg di cocaina, nonché circa 7 kg di hashish e 7,5 kg di marijuana, oltre ad una pistola modificata, potenzialmente letale. Gli inglesi le chiamerebbero tiny house, piccole case autonome, dalle dimensioni ridotte, ma in questo caso dalle decorazioni estremamente raffinate. È il caso di una tra le più recenti unità abitative emerse nel corso delle indagini, nato nel cantiere dell'insula dei Castiamanti, nel quartiere centrale della città antica di Pompei, lungo via dell'abbondanza, una casa dallo spazio ristretto, senza il tradizionale atrio, una particolarità, considerato che nonostante le ridotte dimensioni della dimora, non sarebbe stato impossibile l'inserimento di un piccolo atrio con la classica vasca per la raccolta dell'acqua piovana, tipico nell'architettura delle ricche dimore pompeiane, che invece in questo caso è assente, spiega una nota. È un esempio di archeologia pubblica, o come preferisco chiamarla, archeologia circolare. Le parole del direttore del parco, Gabriel Zuchtrighe, l'ascoltiamo. Siamo in una casa piccola, ma riccamente decorata di Pompei, e lo scavo dell'altare domestico, dell'arario di questa casa, richiede, come spesso, la collaborazione di vari specialisti. Abbiamo qui archeologi, restauratori, archeobotanici, per comprendere esattamente lo svolgimento del rituale dell'ultimo sacrificio, prima dell'eruzione. Ci sono ancora i resti bruciati di questo rituale, c'è il coltello che veniva utilizzato, ma anche uno scavo che si svolge sotto gli occhi del pubblico, che può accedere sopra, ci sono delle passerelle sospese, tutti i giorni potete venire, osservare.